Chi entra e chi esce, man mano che si completa la mappa del voto si delinea l'attribuzione dei seggi. In questa nuova legislatura la novità assoluta è la riduzione dei parlamentari. Si passa complessivamente così da 630 a 400 deputati e da 315 a 200 senatori elettivi. Dalla Puglia i biglietti per Roma dovrebbero essere 40, 27 per i deputati e 13 per i senatori. Nei collegi uninominali le partite sono ben definite mentre per quelli proporzionali non sono da escludere stravolgimenti e riconteggi. Il centrodestra rastrella i posti nei collegi uninominali. 5 gli eletti al senato, tutti del centrodestra, tra questi si confermano Francesco Paolo Sisto di Forza Italia e Roberto Marti della Lega a cui si aggiunge la new entry Filippo Melchiorre di Fratelli d'Italia. 10 i nomi certi invece alla Camera dei Deputati di cui 9 al centrodestra, tra questi ci sono Davide Bellomo e Rossano Sasso della Lega, Saverio Congedo di Fratelli d'Italia, Rita dalla Chiesa, Mauro Dattis e Gian Diego Gatta di Forza Italia. L'unico collegio uninominale in cui non si afferma il centrodestra e di Foggia va a Marco Pellegrino del Movimento 5 Stelle. Più confuso per ora l'elenco degli eletti nei collegi proporzionali. La spunteranno quasi sicuramente per Fratelli d'Italia Marcello Gemmato, Gian Donato La Salandra, uno tra Giovanni Maiorano e Laura De Marzo alla Camera, Giovan Battista Fazzolari e Ignazio Zullo al Senato. Probabile ovviamente un incarico di governo per Raffaele Fitto. Forza Italia dovrebbe prendere altri due o tre seggi alla Camera e uno al Senato. Sarà folta poi la rappresentanza pentastellata in Puglia. Oltre al leader Giuseppe Conte che era candidato in quattro collegi, il Movimento si attende di conquistare altri cinque seggi alla Camera, più altri due al Senato con le conferme di Gian Mauro Dell'Olio, Patti Labbate, Leonardo Donno e Mario Turco, il cui seggio però dovrebbe arrivare dalla Basilicata. Risicata invece la rappresentanza del Partito Democratico, per ora si attendono tre deputati e due senatori, tra questi ci dovrebbe essere il segretario regionale Marco Lacarra. La legge elettorale però è molto complessa e prima di poter definire il risultato nei collegi proporzionali occorrerà attendere la definizione precisa dei voti.